Un saluto speciale alle famiglie che in questo periodo fanno più fatica. Se questo pensate a tante famiglie che sono in difficoltà in questo momento perché non hanno il lavoro, hanno perso il lavoro, c'è uno, due figli e dalle volte con un po' di vergogna non fanno sapere questo. Ma siete voi ad andare a cercare dove c'è necessità, dove è Gesù nel bisogno. Fate questo.